Benvenuti da Tecnome d'Italia. In questo video vi illustreremo le novità che riguardano l'area configuratori del nostro sito www.dentalastec.it. Innanzitutto è necessario essere registrati al sito e una volta effettuato l'accesso si deve cliccare sulla macro categoria riuniti studio. Qui troverete tutte le configurazioni che è possibile fare. A breve sarà presente anche la configurazione della chirurgia. Una veloce precisazione prima di iniziare. Le configurazioni che andremo a fare sono ad esempio, i prezzi quindi non sono quelli reali. Iniziamo a configurare. Facciamo un esempio. Sono interessato all'over-e. Quindi clicco prima su over, poi clicco su over-e, posso cliccare sia su riunitor over che configura. Ora posso iniziare a configurare. La prima cosa che noto è la possibilità di scaricare il catalogo dall'area download a fianco all'immagine del riunito. Cliccandoci mi si aprirà un pdf con ulteriori informazioni e immagini del prodotto. Inserisco un commento identificativo e passo alla faretra. Qui nella faretra è importante ricordare che nei riuniti non è possibile selezionare più di 5 strumenti e a ognuno di questi strumenti deve essere attribuita una posizione. Una logica simile accompagna anche i carrelli dentali e il carrello podologico. In quest'ultimo però non si possono selezionare più di 4 strumenti. Configuro il riunito con le opzioni che mi interessano. Come si può notare, oltre al pdf del catalogo generale del prodotto, è possibile scaricare specifiche schede del prodotto cliccando su scheda tecnica, in questo caso le lampade polimerizzatrici. È possibile recuperare le schede prodotto anche una volta stampato il preventivo grazie al QR code. Per utilizzarlo basta avere un'app nel proprio cellulare che sia in grado di leggerlo. Queste informazioni sono molto utili anche per produrre la documentazione richiesta nel caso si partecipi ad un bando di gara. Continuo a configurare indicando la quantità. Il numero di default è 1. In questo caso inserisco 2, ricordando che la quantità si può applicare solo alla configurazione totale e non alle singole voci. Clicco quindi invio e il prezzo totale mi si aggiorna automaticamente. Ora posso scegliere salva oppure salva continua. In questo caso mi interessa solo questo riunito, quindi clicco su salva ed entro nell'area preventivi. In quest'area è possibile fare diverse cose. È possibile vedere un riepilogo dei dettagli della configurazione. È possibile modificare la configurazione che è già stata fatta. È possibile cancellarla cliccando su questa icona. Oppure è possibile stamparla. Con la funzione stampa è possibile anche creare il PDF della configurazione. Clicco su stampa. Come vedete in questo caso il browser, qui stiamo utilizzando Chrome su Windows 10, ci dice che il pop-up non è abilitato e quindi il browser lo blocca. Per poter utilizzare la funzione di stampa dobbiamo abilitare il pop-up. Quindi in questo caso clicchiamo su ok. In l'altra destra dove c'è questa iconcina con la X rossa clicchiamo sopra e consentiamo l'utilizzo del pop-up sempre per questo sito. Clicchiamo quindi su fine ed ora andiamo a cliccare su stampa per riattivare la funzione. Mi si apre la finestra di stampa e qui Chrome mi dà la possibilità di stampare o di creare direttamente il PDF. In questo caso io voglio fare il PDF. Clicco quindi su modifica, seleziono salva come PDF e clicco quindi su salva. Salvo il PDF con il nome che voglio. Andiamo ad aprirlo. come possibile vedere una delle novità è che le opzioni selezionate sono ora più visibili in fase di stampa. Quindi qui ho riassunto di tutte le scelte che ho fatto con il prezzo totale e le quantità. Ma se voglio fare più configurazioni ed avere un totale unico? Facciamo un esempio. Decidiamo che per il riunito che abbiamo già configurato ci occorrono alcuni accessori e gli strumenti per la sterilizzazione. Torniamo quindi nell'area riuniti in studio e iniziamo a configurare gli accessori riuniti. A differenza dei riuniti questa configurazione non ha delle caratteristiche di serie ma è totalmente opzionale. Quindi si partirà da un prezzo zero e il risultato totale sarà dato dalla somma delle varie opzioni scelte. Inserisco anche in questo caso un commento identificativo e vado mano a mano a selezionare gli elementi che mi interessano come accessori, manipoli e multimedia per il mio riunito. Come è possibile vedere in questo tipo di configurazione i PDF e i QR code di approfondimento sono in un'apposita area. Se ad esempio clicchiamo su manipoli si aprirà una nuova finestra con il relativo PDF dove è possibile disporre di informazioni più dettagliate. In questo caso però una volta finita la configurazione non clicco su salva ma su salva e continua. Grazie a questa funzione la configurazione appena fatta viene salvata nell'area preventivi ma allo stesso tempo è possibile effettuare altre configurazioni in quanto mi rimanda direttamente nella macro categoria riuniti studio. Seguendo le precedenti indicazioni configuro anche la sala sterilizzazione. inserisco una dicitura identificativa, scelgo gli elementi che mi interessano e in questo caso clicco su salva per tornare all'area preventivi. Qui ritrovo entrambe le configurazioni più la precedente. Le configurazioni sono visualizzate in ordine temporale, le ultime salvate sono quindi in alto. Nel caso io voglia creare un PDF con tutti i tre preventivi devo selezionare le tre configurazioni e andare quindi su stampa preventivi. I rimeditori qui hanno la possibilità aggiuntiva di stampare il preventivo con gli sconti o senza sconti. Attendo qualche secondo la fine del caricamento delle configurazioni. Attenzione è bene ricordare che questa funzione non è supportata da Internet Explorer. Una volta caricate le configurazioni mi si apre la finestra di stampa e qui posso scegliere come sempre se stampare o creare il PDF. In questo caso voglio creare il PDF. Quindi faccio clic su salva, salvo il PDF con il nome che voglio, apro PDF e come possibile vedere l'ordine delle configurazioni è inverso rispetto a quello dell'area preventivi. Nel PDF infatti la prima configurazione che avete fatto è anche la prima configurazione che vedete. la particolarità di questa funzione la si può vedere scorrendo in fondo il PDF. Qui infatti si ha il totale preventivo. Il totale preventivo è dato dalla somma delle tre configurazioni. Una volta stampate le configurazioni ho creato il mio PDF, contatto quindi il mio agente di zona per verificare le condizioni a me riservate. Inviare il PDF è molto semplice. Nel caso si utilizzino programmi come Thunderboard o Outlook basta cliccarci sopra con il tasto destro, fare invia A e quindi selezionare ad esempio il destinatario posta. Nel caso non si utilizzassero questi programmi basta semplicemente inserire il PDF come legato alla propria mail. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona configurazione.